Buonasera amici, breve short, il Sassuolo ha scelto Davide Ballardini e quindi per me, non voglio tirare gufate ai tifosi neroverdi, ma per me è salvezza anticipata del Sassuolo, visto che Davide Ballardini è un maestro in queste cose qui, adesso qualcuno dirà ma con la Cremonese non ci è riuscito, vabbè lì la situazione sembrava veramente impossibile già da subito. Io Ballardini me lo ricordo quando nella stagione 2007-2008 prese il Cagliari con 10 punti e fece 32 punti nel girone di ritorno e fece una salvezza incredibile proprio partendo da quella vittoria sul Napoli nel recupero, non so quanti di voi se lo ricorderanno. Chiudo dicendo che Davide Ballardini per me tra l'altro da anni, lo penso, è uno degli allenatori più sottovalutati nella maniera più assoluta e nulla, quindi buon lavoro a mister Ballardini.